Mia! Caccia, come si muove! Il respiro trattenuto addirittura! Adesso lo puoi lasciare, puoi respirare tranquillamente. Grazie Pietro. Allora, dicevamo, tu sei rimasto fermo in mobile, bravissima. Sì. Allora, io stavo pensando di fare un gioco con le altre ragazze. Mi sono scappato, venite, venite, venite! Iniziate la festa. Allora, un pochino più su, un pochino più su. Perfetto, perfetto. Ok, giù, sdraiata come prima. Chi si mette a fianco? Sì, a fianco, 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 a fianco. Perfetto, perfetto. Ok. È scappata, Giulia, è scappata. Vieni Giulia, vieni, vieni, vieni. Allora ragazzi, molto vicine le gambe, eh? Molto vicine. Non muovetevi, assolutamente. Giù, sdraiata. Ok. Allora, aspetta. Allora, ci metto anch'io. E vai, vai. Io vado, vado via veramente. Allora, che cosa devono fare i nostri piloti? Prendere la ricorsa e tentare di salvare i nostri ragazzi. Tentare ragazzi. Allora, vi dico, l'ultima volta il gioco non è riuscito. Per tranquillizzare tutti. Allora, attenzione. Eccolo qua. Allora, Pilano, hanno poi canto il biglietto? Allora. Noi siamo pronti. Ragazzi. Matteo, graffa e rosa. Dai, tranquillo. Pietro. Allora, lasciamo il corridoio per Pietro. Ragazzi. Facciamo un applauso per le nostre ragazze. Cura gambe, cura gambe, cura gambe. Ok. Pietro. Prova a far meglio dell'ultima volta. Mi raccomando, almeno una salva. Ok, si parte. Wow. Fantastico. Non muoverti. Non muoverti. Allora, mi dicono che il tocchettino è fantastico. È vero? Wow. Signora, può provare anche lei? Può provare anche lei, signora? No, no. Si è messa davanti a tutti. Io pensavo, vorreste anche lei giocare con noi. Allora, ce ne aggiungiamo un altro? Dov'è Pietro? Pietro, vieni, vieni, vieni. Ok. Pietro, te la senti? Ragazzi, io non rispondo, eh. Io non garantisco niente. Fermi, immobili. Come no? Si. Non ha mai saltato, ma va a provare. Bravo, Pietro. Allora, questi sono i nostri biker. Ma niente, vieni, vieni. Ce ne aggiungiamo un altro di volontario. Dove lo mettiamo? Di qua o di là? Di là. Ma scherzo. Ti vieni qua. Scusate. No, no, guarda qui. Scusate. Non dovete tornare indietro. E no, in mezzo non ci stai. No, dai, vuoi. Non lo so, giusto. Non lo so, giusto. Tornano indietro col ferro. Perché? Per favore. E' la seconda volta che mi stanno andando con l'altro. Stai dietro con le mani. Fissato. Ok. Perfetto. L'applauso non lo sento. Eccolo qua. Allora, ragazzi, ho bisogno della vostra collaborazione. Vi aggiungiamo un altro? Eh no, aspetta, troppo bello dire sì. Dintelo con l'applauso, se no noi non aggiungiamo nessuna persona. Allora, qua. Vieni, vieni. C'è un volontario tra voi? Io! Ma te quell'ho penato? Vieni a piccita. Io! Non è che due dei volti di più, eh. Quell'ho penato, le decente. Allora, c'è un volontario, una volontaria. Maggiorelli. Eh, ragazzi, troppo bello. Sei Maggiorelli. Una volontaria. Siamo ancora? Volontaria. Però, non rischiare il mondo. Eh, siamo un po' giovanino. La troviamo, una volontaria, tra i signori. Vuoi andare? Ma che è quello lì? Che è quello lì? Voi siete scaricabarine. Vieni tu, dai. Vieni. Vai, vieni. Vai. Paura. Ma che bella signorina. Vieni, vieni a trovarci. Vieni a trovarci. Dai, ascolta. Vieni. Mamma mia. Dai, forza. Non mangiamo nessuno. Forza. Lasciamo un marco, la signorina. Vieni. Ma paura di chi sto passando. Tranquilla. Ma paura io. Vieni, vieni, vieni. Forza, forza. Lasciamo passare questa signora. Vieni, vieni. C'hai anche i gisle. Forbora. E io non posso. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni. Lascia. Allora. Vieni, vieni. Ragazzi, questa è la nostra volontaria. L'applauso. L'applauso per la nostra volontaria. La mettiamo in mezzo. Sei contenta? Di qua. Allora. Non la prezzo. Se cazzo. Vieni qua. Di qua. Allora. Perfettamente stranata come loro. Ok. Giù le gambe. Bene. Vincine vicino. Avvicinatevi. Scusate. Asicchio. Asicchio. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ok. Allora. Montiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Basta. Sette. Allora. Se vi faccio una domanda. Voi che siete in prima via. Come si riconoscono gli uomini dalle donne? Guardate dove hanno le mani. Chissà per quale motivo. Chissà per quale motivo. Non lo so. Una scelta casuale. Quando voi si tengono per meno quelli? Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Prima del salto. Quattro. Da tutti. L'applauso. Voi non avete applaudito. Che cosa. Allora. Ragazzi. Attenzione. Matteo Gattarola. È pronto a saltare. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Un'altra canzone. Fantastico. Allora. L'avete visto? Volete replay? Voi? Matteo. Replay. E poi? Fuori tutti. Mi raccomando. Guardate. Obla. Fantastico. Fantastico il nostro Matteo. Grazie ragazzi. Grazie ragazze. Vi do una mano. Vero che state volentieri. Ok. Una. Ok. Due. Ok. Tre. Grazie.